Il Teramo ribalta il Bari e torna al successo dopo nove giornate. Gara bella intensa in cui è accaduto un po' di tutto, tre rigori sbagliati, un'espulsione e un super Bombaggi, tornato ad essere il trascinatore della squadra con una doppietta. Debutta Vitturini, Paci conferma il 4-3-3, davanti Costa Ferreira e Bombaggi a supporto di Pinzauti. Lunga la lista degli assenti in Casa Biancorossa, Birligea, Lasic e Minelli, squalificato Viero, non convocati, Celentano, Dietichè e Di Matteo. Sul fronte ospite invece out il difensore Andreoni e l'attaccante Dursi. Bombaggi is back, si diceva, grazie alla sua doppietta decisiva. Decisivo però anche Lewandowski che ha parato un rigore a Marras sull'1-0 per il Bari. Gli altri due penalty sono stati battuti e respinti dal portiere ospite, il primo sbagliato da Rigoni, anche se sul secondo Bombaggi, che aveva sbagliato anche lui, si è ritrovato il pallone sui piedi spingendo la sfera in rete. Curiosità da record, il secondo rigore del Teramo è stato assegnato sulla ribattuta del primo per un fallo su Pinzauti. Nell'azione secondo giallo per Semenzato, che è stato espulso, raggiunto l'1-1, il Teramo ha continuato a spingere, ribaltando il match ancora con Bombaggi, autore di una gran giocata. Per il numero 10 Biancorosso si tratta della quarta rete stagionale, tre delle quali sono state segnate al Bari, all'andata infatti finì 1-1 con un suo gol. La squadra di Pace ha interpretato molto bene il match, giocando in maniera aggressiva sin dalle prime battute, segno di una condizione fisica ritrovata. Il Bari di Auteri ha sofferto molto il pressing alto del Teramo, affidandosi soprattutto ai lanci lunghi e alle giocate in verticale di Marras, per innescare Antenucci, l'autore del vantaggio barese. Martedì 2 febbraio di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, Teramo affoggia, gara alle 17.30.